Dai pedagogisti al mondo dello spettacolo, dagli intellettuali ai politici. Tutti uniti nel chiedere al governo un'ulteriore stretta sugli smartphone. Niente telefoni personali a chi ha meno di 14 anni, nessun profilo social per gli under 16. Si tratta di un appello promosso dal pedagogista Daniele Novara e dallo psicoterapeuta Alberto Pellai, che arriva dopo il divieto di utilizzo degli smartphone in classe fino alla terza media anche per scopi didattici, voluto dal ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara. Lanciato anche come petizione su change.org, raccoglieva già le firme di Paola Cortellesi, Stefano Accorsi, Luca Zingaretti e tanti altri artisti. Un appello che secondo il ministro Valditara va nella direzione che ha fortemente sostenuto e che ha trasformato in realtà con il divieto dell'utilizzo del cellulare fino a 14 anni nelle scuole italiane. Una richiesta aggiunge che smentisce chi a suo tempo ha banalizzato la nostra iniziativa, arrivando ad accusarci di essere retrogradi. Molto coraggioso e condivisibile è poi il commento di Simona Malpezzi, vicepresidente della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza, all'appello dei pedagogisti. Mentre il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Bodi dice di non credere ai divieti, ma nell'educazione e al ruolo della scuola e delle famiglie. Secondo gli esperti, sono di due tipi i danni che subiscono i bambini e le bambine interagendo con schermi e strumenti tecnologici. Uno diretto, legato alla dipendenza, e uno indiretto, perché l'interazione con gli schermi impedisce di vivere nella vita reale le esperienze fondamentali per un corretto allenamento alla vita. Per loro è chiaro che prima dei 14 anni avere uno smartphone personale possa essere dannoso, così come allo stesso modo avere un profilo sui social prima dei 16 anni. Del resto, anche Valditara osserva che i danni derivanti da un uso precoce del cellulare e dei social sono ormai evidenti a tutti. Su un'altra cosa, però, vogliono essere chiari i promotori dell'appello. Non si tratta di una presa di posizione antitecnologica, ma l'accoglimento di ciò che dicono le neuroscienze a riguardo. E ricordano come nelle scuole dove lo smartphone non è ammesso, gli studenti socializzano e apprendono meglio. E che prima dei 14-15 anni il cervello emotivo dei minori è molto vulnerabile all'ingaggio dopaminergico dei social media e dei videogiochi. Per questo motivo ribadiscono come i dispositivi elettronici, inclusi i tablet, debbano essere usati soltanto dai docenti per arricchire la didattica senza prevedere in classe o a casa, e almeno fino ai 15 anni, alcun uso autonomo degli studenti. D'altronde, per gli esperti, il momento più adatto per usare il social e smartphone arriverà, prima o poi, perché ogni tecnologia ha il suo giusto tempo.